Funziona? Non funziona? Non lo so. Unboxing? Pena è arrivato. Ho... e io lo appo. Poi se non registra da fanculo. Che cosa ci serve? Hai già visto qualcosa? Al contrario l'hanno fatto, simpatici. Ah, sì. Io volevo un regalino però per distanzi. Ah, vabbè. Ah, i miei occhiali. Poco non so... sì, non si vede una sega però... Ecco, facciamo così. Non perché sto usando la webcam schifosa della Thrust. Un giorno ce la butterò, giuro. Insomma, questo è il Pokémon. Capitano via. Dovrei fare il testing di esame però. Non parte il programma. Ringraziamo Twitch. Che è una gran merda. Codice, se roba è useless. E il gioco, se vuoi uscire magari... ha detto no. Maledetto figlio di un Pokémon. Grazie. Questo ha la cassetta. Questa. Ora ve lo fa vedere nella... 3DS. Ho trovato a fare lo blu stronzi di... Pin... Che compagnia è questa? Che compagnia è questa? Questa per quanto ne so io di Nintendo. Mi seguo Pokémon dalla... 97. Brava. Ok. Devo fare un aggiornamento, mi dicono. Cioè, io devo aggiornare 3DS solo per giocare al... Toccoso? Tu sei scemo. Se. Vaffanculo, via. Eh... L'ho aggiornato ieri. Di là non vediamo niente. Joff che si dispera perché è laggo. Gioca a Pokémon... Eh... Guarda, lo metto in coreano così. Inizio a gioco. Cioè, io ho aggiornato perché cosa? Buh. Vabbè, traerò. È un po' alto forse. Game Freak. Vaffanculo. Ci hai fatto penare questo gioco. Sì, vabbè. Adesso mi segnalo il video perché... Va incontro ai copyright di sto cavolo. Tanto Nintendo sta canzionando tutti i video di Pokémon Alpha e... è Omega. Non so il motivo. Boh. Vabbè. Traerò lo vedete in HD su YouTube nel caso. Bello, però. È più figo giù, però. ma è chiogra che figo che si per ta com'era ancien chiogra hai becchi tempi bastardo io sono censura una sore e qui c'è il troll non so quanti minuti siamo ho attivato il 3d vabbè nel caso dovete vedere una let's play andate da Alfred Camero vedete lì ogni giorno mette una parte che è buon oppure da Evil Seafy che lo fa anche lui poi i miei Saunders 92 fa una no non è una Nuzloc è una non mi ricordo il nome mi dispiace e quale versione di pokemon era? soul silver esatto fa una let's play di soul silver vabbè il nome lo sapete quindi ah finalmente posso mettere il mio nome intero che bello nome si vai che ce la facciamo è un'uniclame intanto voi non vedete niente stai trasloccando ad alba nuova bla 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 ecco qui il metodo di trovare shiny è stato semplificato una cosa stupenda potrò avere cinciao cinciu sarebbe il campanellino giapponese dal monte Spira mi pare non mi ricordo più niente giuro bella la mappa oh novi mappe vabbè qui è come x e y anche poi prendere il tuo pc e raccoglio medaglie l'id mi fa altamente cagare opzioni velocità di testo veloce animazioni no non voglio essere obbligata a salvare questo è pokemon zaffiro alfa questo è x invece e niente video in ultimo ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti